Ciao a tutti e ben tornati con Katherine Allora vediamo un attimo come proseguire la serata Parliamo con Toby Che in realtà ci ho parlato pochissimo Poveretto Erika Posto Stai buono Stai buono che Erika mi sa che è un po' Fuori dalla tua portata onestamente Come sto? Ero a pranzo fuori con Erika Perché l'atmosfera al bar è un po' cupa ultimamente Abbiamo giocato travestirci Ti manderò una foto per ringraziarti Dell'incoraggiamento Erika ha detto che è meglio indossare qualcosa che dia l'idea giusta Ma non so cosa vuol dire Guarda Katherine Ti rispondo per correttezza Però non dovrei Ecco Non saprei Basta Mi sembra di essere stato abbastanza staccato Insomma senza essere maleducato O senza provarci Ma non sapere Rai va Ma va che le donne fanno male, meglio le moto va Cosa? Ma sei impazzito? Dopo tutta la fatica che ho fatto per stare con Catherine con la cappa Ah beh allora Chi è che rompe? E' lei Lascia squillare Chi se ne c'ava? Johnny Vai a casa allora, se non sai cosa dire, cazzo Se non ti chiede di parlare tu gli rispondi che stanchezza, che stanchezza, cazzo vai a casa Cioè, eh Ma questo qua non era in giro che ci hanno dato un messaggio prima Rin è stato proprio a casa qui, nessuno di più Ehi, Vince, è tua vita, ma... Assurati che nessuno si tratta, ok? Ci provo Poi almeno speriamo Ben Bene Tutto è bene, ciò che finisce bene Si manca qualcuno vicino? Ah no, pensavo Ah no, pensavo Certamente E anche le pecore rende felice Nooo Sì 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 Ho capito che ci si parli da qua, con Johnny, vero? Sì 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 Quindici La mia età Basta Giuro, basta Allora Sì 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 Ah, quella ragazza là Ehi È colpa tua, no Non è colpa tua Ma Da fuck Ma ho sbagliato a cliccare Nooo Ho sbagliato a cliccare, cazzo Ma ho sbagliato a cliccare, cavolo, cazzo No, no, no Ma ho sbagliato a cliccare, cavolo, cazzo Chi è sto qua, dai Mi manderei il video, di cosa? Ti vedi con qualcuno? Allora Non so se ho fatto bene, sapete Let's speak with the boss No, con la coppia, dai Sì Sì E chi sono? Pecora con gli occhiali Matteo è riconosciuto È più importante che il suo lavoro Sì, sei vero Non è perché sono occupato a lavoro Non mettere il tuo naso in questo Sì E quindi significa che hai stato occupato a planare il tuo bambino Che triste Oh Tu stai cascati? No 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 Inoltre, come volevo dire, il giocatore in relazioni è davvero la femmina. La femmina ha avuto i giovani combattono per venire il corrispio. Quando ho visto il documentario l'ultima, ho avuto il peggio per il peggio. Potremmo non puoi essere molto interessato per tanto tempo. Hai giovani. questo mi prende stiamo捕ando ogni giorno per le migliori se ci prendi molto molto, potresti essere intercambiato per le migliori vicino, sai? scusate hai un'altra mail oh porca vacca cosa ho visto? no non ci vado, io lo so che i maschiti qua vorrebbero vedere però ragazzi ormai la run è da fedele e deve rimanere fedele però sapete cosa? la prossima run, perché sono sicuro che ne farò un'altra farò l'infame, non posso dire altro, non posso anticiparvi altro, immaginate cosa farò sicuramente non farò il fedele, questo ve lo garantisco bene no non dirmela, non dirmela eh posso venire a fare la doccia da te? ascoltate no pensavo male in realtà vabbè non importa dai, meglio così allora qua ci andate via eh, eh, la pecora poliziotto oh 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 no pensavo per me su questo incidente non sarò molto aiutato ma è stato circa la tua agezza che stai morto quindi fai molto attenzione non sembra molto interessato eh, nessuna evidenza ha avuto ancora e io sono in un altro caso ho capito sono morgan se trovo nulla di questo incidente, te lo dirò quindi non preoccuparti sui strani rumori non mi preoccupare sui rumori non mi preoccupare sui rumori mmmm hai una mail si ah, ok il manolo qui interiore sorry, non ho nessuna informazione su questo incidente sto a lavorare oggi quindi spero che abbia qualcosa per te ciao ciao ah questo è lì comunque ho dovuto cercare cose direttamente domani Vincent andiamo a casa ora ok, ci vediamo dopo e me ne vado anch'io eh vero Vincent dai alzati alzati prima che rive Katrin tutto questo alzato è buono per il tuo liver hurry up ho avuto aspettato al tuo trial ho... ho solo sentito qualcosa? andiamo se ne va vediamo qua se possiamo parlare con questi due obbri racconi qua sì 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 Beh effettivamente No Non è vero io adesso scappo Vincent scappa Vincent non pagare non pagare E ne abbiamo già dato E mo se ne andiamo a casa Ah già io vado Ok Le ultime parole famose Mezzanotte 39 Stanza di Vincent Sesto giorno Ho fatica a prendere sonno povero Vincent eh Per forza Con degli incubi del genere ogni notte Io eviterei di andare a letto direttamente Mezzanotte 58 Un livello da fare ragazzi Eh 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 Block tower stage 6 Dordo orologio primo piano Bene Oh cavolo I blocchi bomba Ma sapete Ma sapete che non me li ricordo mica io Nel vecchio Catherine Boh Oh Oh cazzo Oh cazzo Cazzo Allora Oh cazzo Allora Oh cazzo Allora Oh cazzo Ok No No Oh sì Sì Perfetto Facciamo una super scalinata In teoria senza troppi problemi Almeno ci proviamo ragazzi Ok Così Finchè così è facile Aiuto Holy shit Cosa vuole questo qua Ehi 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 Ai 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 Cosa vuole questo Oh cazzo schifoso Mi spiace ma 3 sei cercata Cioè Mi volevi occupare Cosa devo fare Aspettare E sperare Giusto ragazzi Oh porca vacca Ok ce l'abbiamo fatta Eh no cazzo Ok Devo dire che è andata discretamente bene ragazzi A questa scalata Dai È andata discretamente bene Però veramente Senza la possibilità di tornare indietro Sarebbe molto molto dura Senza possibilità di Tornare indietro appunto Delle mosce Molto dura Ah che fatica È lì davanti È lì davanti È lì davanti È lì davanti Eh già È lì davanti Hey Ero anche per favore Ero cosa? Ma se ho avuto le mie ricordazioni E ho scoperto qualcosa che non c'era che non c'era che era l'esituto Non preoccuparti, Ren Tu sei sei, non importa cosa, certo? Hai parole sempre mi hanno amore, Vincent C'è quello che ci sono chiamati nel confesione, che è dovuto fare le nostre le nostre le nostre, certo? Questo è quello che ho detto E queste questioni sicuramente sono strani Mi sento che dovrei prendere la risposta giusta, non quello che sento sinceramente. Cosa hai avuto risposto? Non lo sai se fosse menta, quindi mi sento solo con la risposta giusta. Sì. Inoltre? Mi ha chiesto se gli uomini che vogliono chiedere su loro esposa sono pathetiche o grafici. E perché credo che gli uomini che si incontrano a una uomini sempre sono abbastanza e non hanno vita, pensavo che grafici sarebbe la risposta giusta. Allora sei un coglione. Sei proprio scemo. Cosa di tradirla? 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 Si? No, non è quello che ho pensato. Cosa direbbe a un amico? Se si trovassero che fosse un milionario. E sarebbe un po' disperto che non mi ha detto. Si non mi credo. E credo che solo direbbe... Un po' jealous. E... E' un amico, certo? E' un amico, certo? E io faria quello. E' quello che tutti dice prima. E' un amico, Rosane. E' un amico, Rosane. E' nato in 12. E ho più 1000 servizi. E almeno 100 ricercatori. Come Mr. Scarf. La acqua corruzione il cuore. E' triste, ma è vero. E' un uomo che mi chiede per un uomo. E' morto. E' usato il uomo per comprare un carro. E' morto. E' morto. E' morto. Ero. 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 Non può essere. Vedo che sei sicuro. Parliamo delle nostre tecniche. Abbiamo tutti bisogno di continuare ad ascoltare. Si. 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 Domino. Ok. 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 Il nostro bloc è un bloc che si tratta di un po' di uno. Non credi che sia utile? Non ho solo un'idea. Cosa pensi di questo? Mi permette di raccontare la scuola di controllo. Le bloc che sono un'acquazza che si tratta di bloc che si tratta di bloc che si tratta di bloc che si tratta di bloc. ok ok no no Bene ragazzi Con questo noi salviamo Salva Grazie e alla prossima